Una delle caratteristiche principali di questo prodotto grazie alla connessione internet è quello di poter pubblicare siti web dove poter creare informazioni all'interno per esempio di aziende di uffici pubblici di musei o comunque di qualsiasi ambito dove c'è bisogno di consultare un'area web quindi come vedete con lo schermo touch io posso andare a scorrere e andare a visitare aree del sito vedere quelli che sono i prodotti magari di mio interesse e se io posso immaginarlo anche in un contesto di e-commerce o di acquisto online magari anche esercitare l'opzione di fare un acquisto all'interno del negozio e ritirare il bene direttamente in loco. Ci rendiamo conto ogni giorno che incontriamo i nostri clienti che c'è sempre di più un'attenzione alle forme di comunicazione e come questa comunicazione influenza il cliente finale nella decisione d'acquisto. Per questo motivo abbiamo deciso di investire in tecnologia per rispondere a queste esigenze e per entrare in un mercato che quello del Digital Signage. Oggi nell'ambito retail e ospitali dove siamo fortemente presenti abbiamo già un pacchetto di offerte di prodotti estremamente allargato ma con questa soluzione nuova multimediale come Visual T riteniamo di poter dare un qualcosa che garantisca al nostro cliente una nuova opportunità di creare un nuovo business. Sicuramente la possibilità di comunicare in maniera interattiva, di fare delle promozioni, di fare della comunicazione e di arrivare addirittura al gestire un processo di acquisto all'interno del punto vendita. Il nostro engineering è riuscito a realizzare un prodotto che coniuga un design molto curato a un livello tecnologico molto sofisticato. Questo però tutto garantendo un punto di forza al prodotto che è dato dalla semplicità di utilizzo e dalla facilità di integrazione. Tant'è vero che questo prodotto può essere usato in catene di negozi senza avere bisogno di costose infrastrutture e gestire fino a 50 terminali dislocati anche in ambienti diversi per fare comunicazione interattiva con i clienti finali. Queste soluzioni hanno sicuramente un campo di applicazione vastissimo. Il nostro focus principale è quello nell'ambito del retail e dell'hospitality. Comunque ovunque ci sia l'opportunità o le esigenze di fare comunicazione verso il pubblico. Questo prodotto come vedete qui di fianco a me è un prodotto facilmente personalizzabile, si può creare una programmazione da remoto, è interattivo grazie allo schermo touch dove il consumatore può agire, si possono creare diversi livelli di comunicazione e quindi si possono fare promozioni, informazione, comunicazione o anche addirittura gestire processi di acquisto all'interno del punto vendita. Un altro punto di forza di questi strumenti è la possibilità di dare un connotato moderno all'ambiente dove viene collocato grazie al fatto che posso andare a creare una vetrina sui social, per esempio applicazioni LinkedIn o canali social dedicati o pubblicazioni di hashtag consentono anche di dare un'immagine più giovane e più interattiva per il pubblico che lo va a utilizzare.